Va ora in onda il culto evangelico valdese. La predicazione di oggi è curata dal diacono Massimo Long. Un saluto a voi tutte e tutti che siete in ascolto di questo momento di culto evangelico. Anche se distanti ognuna e ognuno nella propria casa, la parola di Dio ci unisce e ci fa sentire parte di una grande famiglia che si ritrova per fare festa. Vogliamo dunque chiedere al Signore di essere afferrati dal suo spirito, così che sappiamo riconoscere nel mondo i segni della sua presenza. Vogliamo chiedere al Signore di scuotere il nostro modo di vivere e di pensare, affinché in Lui ogni cosa diventi nuova. Al Signore, dal quale questa mattina riceviamo grazia e pace, salgano le nostre lodi e il nostro canto. Amen. Vi voglio leggere il Salmo 93. Il Signore regna. Egli si è rivestito di maestà. Il Signore si è rivestito, se cinto di forza. Il mondo quindi è stabile e non sarà scosso. Il tuo trono è saldo dai tempi antichi. Tu esisti dall'eternità. I fiumi hanno alzato, o Signore, i fiumi hanno alzato la loro voce. I fiumi elevano il loro fragore. Più delle voci delle grandi, delle potenti acque, più dei flutti del mare. Il Signore è potente nei luoghi altissimi. I tuoi statuti sono perfettamente stabili. La santità s'addice alla tua casa, o Signore, per sempre. Ci raccogliamo in preghiera. Possa la nostra vita tutta cantare la tua lode. Sì, Signore, è bene lodarti e dirti la nostra gioia. È bene ringraziarti per la tua parola che ci viene incontro, che ci accompagna e ci nutre lungo il cammino della nostra vita. Essa è molto di più che semplici parole scritte su di un libro. È la vita stessa di Dio che in Gesù Cristo si è data per salvezza dell'umanità. Per mezzo di Lui hai fatto lievitare in questo mondo la presenza del tuo regno. Hai fatto sgorgare in noi la speranza di nuovi cieli e di una nuova terra, dove ogni lacrima, ogni oppressione e ogni male scompariranno per sempre. Per questo, con tutti i testimoni di ogni luogo e ogni tempo, con la tua Chiesa riunita oggi nella gioia, noi cantiamo e proclamiamo la gloria del tuo nome. Amen. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il lezionario Un giorno una parola propone come testo per la meditazione di questa mattina gli ultimi versetti del capitolo 11 della lettera ai Romani. Si tratta della parte conclusiva della sezione dei capitoli da 9 a 11 in cui l'Apostolo Paolo, con ragionamenti piuttosto elaborati, presenta il modo in cui Dio ha sviluppato il suo piano per redimere l'umanità ribelle. In particolare, si sofferma su una questione che gli sta molto a cuore, ovvero il rifiuto di Gesù come Messia da parte di molti suoi connazionali, cosa che è per lui una ferita che causa molto dolore. Ma egli non vuole che i suoi lettori non ebrei arrivino alla conclusione che Dio ha rigettato Israele come popolo. E così, con molta pazienza, illustra il piano di Dio anche per Israele. E' il modo in cui Dio ha sempre mantenuto fede al proprio patto, rinnovando le sue promesse al residuo fedele che non era mai mancato nella storia di Israele dai tempi di Mosè fino a quel momento. Mette poi in guardia gli stranieri dall'insuperbirsi nei confronti dei giudei, invitandoli a ricordare che tutti siamo peccatori bisognosi della misericordia di Dio e che egli mostra la sua misericordia verso i giudei che si convertono nello stesso modo in cui la mostra ai gentili. A questo punto, come diverse volte accade nelle lettere di Paolo, l'Apostolo sente una spinta interiore a fermarsi un attimo per glorificare Dio e lo fa con queste poche parole che sono una poesia, un inno a Dio e su Dio. Allora le leggiamo dal capitolo 11 della Lettera ai Romani, i versetti da 33 a 36. Oh profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio, Quanto inscrutabili sono i suoi giudizi e ininvestigabili le sue vie. Infatti, chi ha conosciuto il pensiero del Signore? O chi è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, sì da riceverne il contraccambio? Perché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui, sono tutte le cose. A Lui sia la gloria in eterno. Amen. Cosa possiamo dire di più? Come spiegare o anche predicare partendo da un tale inno? Non faremmo meglio a lasciare che sia il testo stesso ad agire su di noi, ad ispirarci? In queste frasi Paolo esprime dei concetti che sono ben presenti in diversi brani delle scritture, come il libro del profeta Isaia al capitolo 40, oppure il libro di Giobbe al capitolo 41. In particolare, in Giobbe, il Signore afferma «Chi mi ha anticipato qualcosa perché io glielo debba rendere, sono sotto tutti i cieli, ogni cosa è mia». Ed è proprio su questo concetto che Paolo si sofferma per concludere questa sezione. Dio è il creatore di ogni cosa, ogni cosa è sua. Ogni cosa proviene da Lui, è stata creata per mezzo di Lui ed è in vista di Lui. Difficile confrontarsi con queste parole. Noi siamo piuttosto quelli che amano dire «Non devo niente a nessuno, mi sono fatto da me, posso organizzare e controllare la mia vita da solo. Vedi tutto questo? L'ho costruito con le mie mani». Il self-made man è un ideale. Il lavapiatti che diventa miliardario attraverso la sua forza, la sua intelligenza, il suo lavoro. La società in cui viviamo ci ha insegnato che possiamo fare qualsiasi cosa se vogliamo. «Basta avere la capacità di imporsi, essere perseveranti, condurre una vita sana per poter dire «La mia vita è saldamente nelle mie mani. Tutto questo l'ho realizzato io stesso». E quello che non ce la fa deve solo incolpare se stesso. Non è stato abbastanza bravo, efficiente, oppure è un incapace. Nella nostra società questo vale tanto per l'individuo che per i popoli. E allora, se nella nostra vita di tutti i giorni dobbiamo confrontarci con questa realtà, come dobbiamo considerare le parole di Paolo? «Da lui, per mezzo di lui e per lui sono tutte le cose». Ammettiamolo, questa frase viene da un tempo e da un mondo molto lontano. L'Apostolo stesso ha usato parole contenute in testi antichi. Era un mondo in cui le persone sapevano ancora meravigliarsi di ciò che accadeva a loro o intorno a loro. Un mondo pieno di eventi curiosi che gli esseri umani dovevano accettare con rassegnazione oppure ribellarsi. Le divinità e le forze del destino determinavano la vita quotidiana dell'individuo nel suo ambiente, anche la vita dei popoli. Ma anche se Paolo parla il linguaggio del suo tempo, quello che deve dire ai cristiani di Roma va oltre le categorie di pensiero e le rappresentazioni religiose. Un passaggio che precede immediatamente questo inno può aiutarci a meglio comprendere. Paolo parla del rapporto tra la giovane comunità cristiana e la comunità ebraica. A Roma, tra i cristiani di origine pagana, prevaleva il pensiero che non riconoscendo Gesù come salvatore, gli ebrei avevano sprecato la loro occasione. «Il nuovo popolo di Dio siamo noi», dicevano i cristiani. «L'antico popolo di Dio è perso. Siamo noi i custodi della verità». Paolo combatte questo atteggiamento e utilizza un'immagine. Un cristiano che prima era molto lontano da Dio è come un ramo selvatico innestato su di un olivo. Ora fa parte di un buon tronco ma non può esserne orgoglioso né credersi migliore degli altri rami dell'albero perché egli è nutrito dalle stesse radici di tutti gli altri rami. Certo, alcuni rami sono stati tagliati ma questi rami possono essere nuovamente reimpiantati proprio come il nuovo ramo può rischiare di essere tagliato. È la bontà di Dio che fa crescere il ramo e la bontà di Dio non tiene conto delle concezioni umane. Si basa su altri criteri. In ogni caso, Dio non colpisce alla cieca come il destino e il fine per il quale usa il suo potere è la salvezza del mondo, la liberazione dal dolore, dalla sofferenza e dalla morte. A causa della mancanza di fede ognuno può escludersi dalla bontà di Dio ma mai dal suo raggio d'azione. Martin Lutero nella spiegazione del terzo articolo del Credo scrive Io credo che con la mia ragione e con la mia forza non è possibile credere in Gesù Cristo mio Signore o venire a Lui. Credo che lo Spirito Santo mi ha chiamato attraverso l'Evangelo. Poco prima di concludere con questo inno Paolo scrive Dio infatti ha rinchiuso tutti ebrei e cristiani nella disubbidienza per fare misericordia a tutti. Quindi né gli ebrei né i cristiani né nessun altro essere umano sono in grado di vivere secondo la loro vera vocazione. Tutti vivono della misericordia di Dio del suo amore costantemente rinnovato o come dice la Bibbia della sua grazia. Non sono quindi delle forze cieche che colpiscono e portano sofferenza e lutto sugli esseri umani non più di quanto le nostre forze o il potere umano possono salvarci. Solo la volontà di Dio la sua bontà e misericordia possono portare la salvezza. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Questa verità è per Paolo la grande unità il legame storico tra la promessa di Dio il voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio e il compimento definitivo di questa promessa alla fine dei tempi in cui la morte sarà sconfitta. Per questo tempo per noi che siamo in cammino su questa terra per chi ancora sa meravigliarsi resta la consapevolezza che la nostra vita è custodita e preservata. Resta la certezza di essere in comunione con l'amore di Dio. Resta per chi ancora sa essere grato il riconoscere di aver realizzato cose ben oltre le nostre capacità e i nostri meriti per chi si è messo in cammino con Dio e confida nella sua parola e nelle sue promesse per ciascuna e ciascuno di noi resta questo inno di lode da Lui per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose a Lui sia la gloria in eterno Amo Lode Lode all'Altissimo Lode al Signor della gloria Nel re dei secoli noi celebriam la vittoria o su cantiamo e tutti insieme ci obbiliam in terra e cielo adoriamo Lode all'Altissimo e il timore dell'Immenso creato sovra di Dato e la salvi noi tutti apportato e nel sostegno poiché ad ognuno conviene di camminare con il suo aiuto Lode all'Altissimo e nella grazia infinita Tutto è di donarci forza bene sere e vita Non è dolore non ci abbandona dal Signor che il mondo in Cristo ha salvato voglio condividere con voi una preghiera che si trova in uno dei libri dei libretti di preghiera della Seva Io so fratello mio che tu hai delle buone ragioni per disperare ma vorrei gridarti che ci sono anche mille ragioni per sperare non lasciarti sopraffarre il cuore dalla marea nera di cattive notizie per cambiare il mondo cambia prima il tuo sguardo Io tuo piccolo servitore ti prego e ti supplico guarda il mondo con gli occhi di Gesù Cristo Lui nostro Signore e nostro fratello seppe vedere i minimi gesti come l'obolo di una povera vedova e meravigliarsene Fratello mio sorella mia prova a vedere come il regno dell'amore emerge lentamente attraverso i mille piccoli gesti ripetuti di coraggio di tenerezza di sfida che dicono no senza rumore e senza applauso alla logica del denaro dell'odio e dell'indifferenza Guarda bene e sarai sorpreso di scoprire tutti questi uomini e tutte queste donne che inventano giorno dopo giorno nuovi modi di vivere di condividere di sperare e che manifestano che il regno di Dio è vicino Guarda e vedi tutti questi uomini e tutte queste donne che invece di gridare che Dio è cieco gli prestano i loro occhi invece di gridare che Dio è monco gli prestano le loro mani invece di gridare che Dio è muto gli prestano la loro voce Ascolta l'appello di colui che piange perché l'amore non è amato Lasciati sollevare dalla forza nascosta del nostro Signore poiché il mondo attuale ha bisogno di ritrovare questo sguardo del cuore e di cogliere questi fiori di speranza per meglio respirare e per meglio vivere ed ora proseguiamo con le parole del Padre Nostro Padre Nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo anche in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci esporre alla tentazione ma liberaci dal male poiché tuo è il regno la potenza e la gloria nei secoli dei secoli Amen ed ora care sorelle cari fratelli vogliamo congedarci con la benedizione del Signore andate in pace fratelli e sorelle in questo mondo diventato così difficile da abitare ricordatevi di Dio il Dio delle vostre vite egli vi guiderà orienterà le vostre scelte vi libererà dalle paure di ciò che non conoscete dissiperà i vostri dubbi e vi aiuterà a trovare la vostra strada prendetevi il tempo per riflettere ricercate la bellezza scegliete il meglio siate contenti e felici e l'amore abiti nei vostri cuori possa il Dio il Dio delle vostre vite darvi la pace Amen Avete ascoltato il culto evangelico valdese la predicazione di oggi è stata curata dal diacono Massimo Long e l'amore